La vaccinazione è un elemento, come abbiamo ripetuto più volte, molto importante per mettere in sicurezza la popolazione, non si possa interrompere, non può condizionare sicuramente la vita di ognuno. Però per fare un'operazione di vaccinazione anche a coloro che vengono in vacanza da noi, occorre una grande organizzazione che sia una filiera verticale e orizzontale tra il Ministero e tutte le regioni. Perché chiaramente se un cittadino marchigiano fa la prima dose e il richiamo lo deve fare in vacanza, è chiaro che noi dobbiamo mettere in grado anche la regione o il territorio che dovrà inoculare il vaccino di avere la disponibilità. Non può la regione ospitante togliere il vaccino ai suoi cittadini, quindi si tratta di un'organizzazione impattante. Al netto di questo credo che tutto si possa fare. Stiamo continuando bene, io ringrazio veramente tutti quelli che stanno lavorando alla vaccinazione, ringrazio l'assessore perché con molta dedizione segue costantemente l'andamento di questa azione importantissima che deve inorgogliere anche la nostra regione perché essere tra i primi non significa vincere perché non c'è un premio ma significa essere efficienti e questo ci deve inorgogliere.